Allora sono qua con Adobe Acrobat e l'altra cosa che voglio fare è magari la sottolineatura o comunque esaltare determinati passi del testo. Perché questo? Perché l'avevo fatto, ho fatto una rappresentazione per i miei alunni, i miei alunni hanno apprezzato, allora mi hanno detto ma sì però se ci fa questo ci aiuta perché comunque abbiamo già sottolineato, non devo sottolineare, stampare, sottolineare e così via. E niente, allora cercherò anche in questo di accontentarli. Niente, come si fa andare a sottolineare? Allora, anche lì dopo una lunga ricerca, nel senso che questi strumenti per carità sono bellissimi, sono super professionali, dove uno quando è in grado di lavorarci lo conosce, probabilmente produce tantissimo, ma uno come me è che magari va in prestito dal software e lo usa una volta all'anno e così via diventa diventa problematica la cosa, nel senso che devi entrare nell'idea. Anche quello dal video precedente, chi è che va a pensare che devo stampare con un software così professionale, no? Cioè io pensavo c'è un comando, mi cambia il formato da un attimo, eh no, eh no, almeno così sembra, non è così facile, dunque bisogna entrare nella mentalità di qualsiasi software e soprattutto se questo software lo uso una volta all'anno non è facile entrare dentro la mentalità. Dunque, comunque voglio fare questo video proprio che se mi capitasse un'altra volta, comunque mi lo ricordo. E dunque, come faccio? Qui, dopo una lunga ricerca, bisogna andare, ok, bisogna andare su il comando, non modifica, ok, ma bisogna andare su questo comando commento. Quando clicco qua su questo comando commento, anche questa tutta questa serie, serie di programmi così sembrano staccati, così via, a me da parecchio fastidio, però sono fatti così. Dunque, per esempio, io posso selezionare questo e andare a usare questo e faccio commento così, ok? Dunque, il il cambia colore dovrei riuscire, se non erro, a cambiare, vediamo se seleziono, adesso devo selezionare, ecco, questo posso cambiare i colori che voglio, ok? E adesso voglio, è comodo, cancello e lo porto via. Un altro metodo che a me piace invece, che apprezzo di più, è questo. Vado a fare rettangoli, cioè vado a sottolineare, per esempio, questo rettangolo, ok, e sottolineo così, cioè, anche questo, magari qua, posso cambiare colore, metto l'azzurrino e posso addirittura cambiare lo spessore, ok, di queste righe, ok? E dunque, è, risulta, risulta parecchio comodo. Non mi ricordo più come, ci sarà sicuramente il modo, però non mi ricordo più, di cambiare, anche di settare, però quello farò un altro video perché sicuramente non me lo ricordo, cioè, mi ricordo, le camelli va bene, però non mi ricordo come andare a cambiare questo rosso, perché l'azzurro si può cambiare benissimo qui, vado a cambiarlo qua, ma il rosso, il rosso non mi ricordo, non mi ricordo. Niente, comunque, vediamo, aggiungi una casella di testo, no, 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 adesso non mi ricordo, se non faccio il video poi mi dimentico, perché se io vado a fare qua, questa linea, no, linea, questa qui, poi, ah, ok, ah, dunque, questa qui posso cambiare così, vediamo, facciamo di questo colore e cambia, giusto? Perfetto. Dunque, probabilmente c'è anche una selezione da qualche parte, perché se io vado a fare un quadrato, un rettangolo, ok, come faccio ad andare a cambiare oggettivamente il, che faccio l'ovale, ok, questo è questo, ah, ecco, questo è il rosso e posso cambiarlo, sì, posso fare, ah no, è all'interno, non riesco a cambiare lo spessore di questo, vabbè, comunque vedrò, se lo so, se mi ritorna in mente, perché già tanto per me, adesso così, questi qua van bene, dunque non, se mi ritorna in mente ve lo dico, comunque, ecco, comunque, ecco, l'importante è andare qui in comando, commento, è come se mettessimo un commento, e invece andiamo a sottolineare e a evidenziare la cosa, vabbè, mi spiace che non riesco a trovare come andare a modificare la cornice di questo, nota, non riesco, vabbè, ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci.